facilmente comprensibile da dei cittadini, bensì mettendo a disposizione dei servizi avanzati che sfruttano questa informazione ma proprio per fornire dei servizi e cerchiamo di vedere quali di questi servizi possono essere davvero utili nella vita di tutti i giorni. Faremo degli esempi oggi in questo incontro ma fuori poi avremo l'opportunità anche di avere ancora maggiore informazioni, vedere molti più servizi qua fuori direttamente appunto con i nostri cicerone digitali ovvero con i ragazzi che hanno la maglietta blu come alcuni dei miei colleghi in questa sala. Quindi andiamo a vedere adesso appunto perché un comune come vi dicevo è aperto non solo nel momento in cui pubblica dei dati e rende disponibili o pubblica dei documenti ma nel momento in cui questi dati diventano effettivamente dei servizi che permettono di offrire informazioni utili in tanti modi diversi. Cerchiamo di vedere quali sono questi modi. Quindi gli open data vengono resi usabili da tutti tramite ad esempio tramite delle app. Adesso ascolterete dei termini che alcuni dei quali sono più conosciuti altri non si sa bene magari che cosa sono. Quindi app cosa vuol dire? Sono delle applicazioni che possono come quelle che probabilmente molti di voi usano si installano sul vostro cellulare che adesso si chiama smartphone non più cellulare ma permettono di avere delle funzioni. Quindi non permettono solo di navigare o scrivere ad esempio su facebook su qualche social network ma permettono anche di utilizzare delle funzioni. Dopodiché alcune di queste ad esempio permettono anche di fare delle segnalazioni al comune oppure delle petizioni ad esempio come change org. Ci sono dei sistemi di partecipazione. Poi c'è la possibilità di vedere alcune informazioni tramite o delle mappe costruite appositamente oppure tramite delle dashboard. Quindi delle mappe che però sono non fisse ma permettono di essere interrogate e fornirvi maggiori informazioni. Poi ecco ci sono queste famose chatbot che adesso si sente che è un incrocio tra due parole chat ovvero sia chiacchierare e bot o robot. Quindi chiacchierare con un robot. Quindi chiacchierare con qualcuno che in realtà non è una persona ma risponde sulla base delle informazioni che esistono e sono già messe a disposizione. E su questo ci sono dei primi esempi. Ma vediamo adesso appunto degli esempi concreti perché fino adesso sono parole magari non sono di semplice comprensione. Ad esempio questo è un esempio proprio concreto la pulizia delle strade. Il comune fa tutto quello che deve fare secondo la legge quindi quando ci sono da fare delle pulizie avverte la popolazione facendo installare dei cartelli di divieto di sosta almeno 48 ore prima del momento in cui ci sarà la pulizia e c'è il divieto di sosta. Nonostante questo ci sono tante tante persone che non vedono il segnale che magari lasciano quell'auto per più giorni e in questo modo poi si ritrovano l'auto spazzata via e non solo la strada spazzata. Questo cosa ha costretto il comune? Allora a cercare di risolvere, pubblicare un documento sul sito in cui c'era l'elenco delle vie soggette alla pulizia delle strade o anche un altro documento che prevedeva giorno per giorno quali vie fossero pulite, venissero pulite. Anche questo non ha sortito grandi effetti quindi le auto continuavano e continuano a essere spazzate via e le proteste comunque dei cittadini continuano. Infatti c'era proprio l'altro ieri un bel articolo sul giornale che diceva che nei primi due giorni in cui è stata fatta la pulizia c'erano già oltre 100 multe inferte e con l'auto appunto portata via. Il comune allora cosa ha cercato di fare? Ha cercato di realizzare due servizi diversi. Quindi uno ha cercato di aprire i dati quindi fare in modo che l'elenco delle vie non fosse solo un documento ma potesse essere offerto anche delle aziende o dei privati o a qualche persona abile in tecnologia per poterli mostrare in modo migliore. Dopodiché ha anche realizzato esso stesso grazie ai fondi di un progetto europeo un'applicazione grazie anche alla fondazione Bruno Kessler che permettesse di accedere a queste informazioni e visualizzarle in modo facile. Vedete qua questa applicazione si chiama Trento Pulizia Strade e permette di vedere sul proprio telefonino giorno per giorno quali sono le vie interessate dallo spazzamento vederle anche sulla mappa ma una cosa utilissima è che alcune di queste vie si possono segnare come vie preferite quindi mettere una bella stellina a fianco perché magari abitiamo in quella zona o siamo abituati a parcheggiare in quelle zone e ricevere in automatico anche senza bisogno di aprire questa applicazione una segnalazione sul proprio telefonino il giorno prima per evitare la sosta che ci avvisa che il giorno successivo ci sarà lo spazzamento delle strade quindi il divieto di sosta avvisandoci quindi che se stiamo parcheggiando abbiamo parcheggiato l'auto in quei paraggi è possibile e forse è il caso di andarla a spostare. Ecco questo è come la tecnologia possa essere resa semplice per dare un'informazione utile ecco che è questo un po' il tema della smart city ovvero sia usare la tecnologia per fare in modo di fornire servizi migliori ma grazie al fatto di avere poi cliccare sul sul tema della dashboard qua vediamo una mappa di di trento grazie al fatto di avere pubblicato è stato detto che era in fila che poteva venire ad ascoltare e io di solito entrerò a questo punto però vi devo disturbare faccio vedere il numero che in questo momento è all'interno per cui chi ha ad esempio il numero 8 dovrebbe venire ok per cui io verrò alzo il numero che al numero successivo viene dentro così non ti interrompo grazie ecco questo è un sistema che è stato realizzato da una persona della fondazione Bruno Kessler nel tempo libero è una è una persona molto tecnologica però nel tempo libero ha realizzato questa 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 applicativo alla fine che è un sito si chiama in gergo tecnico una dashboard ovvero sia un cruscotto che permette di mostrare però su una mappa giorno per giorno le vie soggette allo spazzamento se vedete qua in basso c'è la data ad esempio qua c'è scritto 9 aprile 2018 ecco il 9 aprile 2018 le vie interessate allo spazzamento sono state queste e abbiamo l'elenco delle vie a lato dal divetto di sosta e dalle 5 dalle 7 di sera alle 5 del giorno successivo e queste sono le vie interessate qua in basso c'è una una barra con la possibilità di scorrerla manualmente e scorrendo cambiano i giorni e cambiano a lato le vie e vengono mostrate esattamente sulla mappa quali vie sono ha inserito anche un sistema molto comodo il play se torni scusa mai all'inizio della barra e clicchi il tasto play abbiamo la possibilità di vedere scorrere giorno per giorno le vie di interesse con le vie appunto interessate dallo spazzamento delle strade giorno per giorno ecco questo è un esempio noi pubblicheremo adesso oltre alle vie nel sito del comune di trento c'è segnato che è possibile utilizzare l'app è possibile scaricarla abbiamo i ciceroni digitali qua fuori che vi spiegheranno se volete ve la installano anche direttamente loro sul vostro smartphone abbiamo realizzato un volantino che spiega anche racconta tutte le applicazioni che ci sono ma questo è proprio un esempio come dalla liberazione dei dati sia possibile poi riuscire a realizzare dei sistemi utili e che non li deve realizzare per forza il comune però questo è stato reso possibile proprio dal fatto che abbiamo liberato i dati e chiesto anche a qualcuno di lavorarci sopra perché solo se no pubblicare i dati non sortiva a grandi effetti un altro esempio è quello degli orari trasporti ecco anche questi i dati in questo caso sono dei trentino trasporti noi cosa abbiamo fatto abbiamo sono stati pubblicati i dati cartografici dato che è un servizio che fa sia il comune e si affida poi alla provincia con trentino trasporti esercizi perché la realizza per il trasporto pubblico locale del di tutto il territorio trentino dati cartografici sono dei dati della cartografia del comune di trento così come la posizione delle fermate delle linee anche delle linee che sono sbarierate quindi che la possibilità di chi è disabile di accedervi dopodiché abbiamo sono stati pubblicati anche gli orari dei mezzi anche questo in un formato aperto grazie a tutto questo cos'è possibile è possibile intanto vedere anche su dashboard o mappe dedicate come abbiamo visto prima le linee degli autobus che però detto così non è che aiutano più di tanto però sarà possibile accedere alla linea direttamente da qua e vedere gli orari dopodiché sono state realizzate tutta una serie di applicazioni alcune sono state realizzate questo in collaborazione che è la viaggia trento e l'applicazione sui trasporti e la mobilità sostenibile soprattutto della completa per il comune di trento infatti si chiama viaggia trento è stata fatta anche una versione viaggia trento e roveretto play and go in cui si associava anche un concorso per chi utilizzare che suggeriva di utilizzare il più possibile mezzi sostenibili quindi andare a piedi in bicicletta e utilizzare l'autobus e su questo si guadagnavano dei punti e sono stati vinti dei premi è stato fatto proprio la premiazione non più tardi di un mese fa ma in ogni caso ci sono delle applicazioni che permettono semplicemente prego volevo chiedere se è possibile dal questa applicazione crearsi un itinerario esempio io sono in piazza duomo volevo andare a guardo sapere quale linea prendere a cura di eccetera assolutamente questo è uno proprio delle funzionalità si chiama in gergo tecnico root planner quindi pianificatore del percorso con questa applicazione prende la comodità ad esempio di uno smartphone è quella che prende in automatico la propria posizione quindi da quella posizione si va a indicare solamente dove si vuole arrivare senza neanche l'indicazione dei mezzi a questo punto vengono suggeriti tutti i percorsi che si possono fare suggerendo a quei tempi di percorrenza di ciascuno quindi usando la macchina quanto ci si mette dove è possibile parcheggiare qual è il tempo medio di trovare parcheggio nella zona che si è scelta perché spesso si dice vado in macchina faccio prima si fai prima d'arrivarci poi devi trovare parcheggio vediamo quanto ti costa il parcheggio quanto ci metti a trovare parcheggio e quindi quanto è il tempo e invece con il tempo gli orari del trasporto e quindi dare l'indicazione di quanto ci metti ad arrivare alla fermata più vicina secondo quella linea e secondo gli orari da questo momento in cui si viene fatta la richiesta e magari quanto le varie possibilità perché si può prendere un mezzo solo oppure fare un cambio di linea ecco questo c'è lo possiamo far vedere al termine dell'incontro se è interessato qua fuori e dopo ci sono tutta una serie di altre applicazioni ce n'è una comoda anche che permette ad esempio open move di pagare il biglietto quindi si è dimenticato il biglietto non se lo abbiamo è vero adesso ci sono anche controllori a bordo però il biglietto se lo si paga all'autista a bordo costa due euro invece è possibile direttamente se non si ha tempo di andare al tabaccaio così si è installato questa applicazione averla e caricato il borsellino direttamente l'applicazione comprare sul momento che serve quel biglietto allo stesso prezzo del biglietto che si prenderebbe al tabaccaio questo è sicuramente molto utile dopodiché ci sono altri esempi quindi dagli dati degli eventi dagli oggetti rinvenuti voi non avete idea di quanti sono gli oggetti che vengono rinvenuti in comune e che poi rimangono lì ma portafogli carte di identità e di persone che però di cui non abbiamo il numero di telefono non abbiamo la possibilità di andare a ritrovare orologi c'è di tutto anelli e braccialetti insomma c'è un po di tutto le avvisi vengono pubblicati sul sito anche quello è un documento e non sortisce effetto abbiamo provato di fare in modo che questi avvisi rientrino nell'elenco anche degli avvisi che vengono sia pubblicati sul sito che arrivano assieme agli eventi e agli avvisi sul sito che compaiono nella prima pagina direttamente nelle newsletter quindi se volete poi potete scrivervi alle varie newsletter del comune quindi vi arriva un'email con un assunto delle notizie più importanti del comune che si hanno ricevuto o tramite un'app che abbiamo realizzato anche questo grazie ai fondi di un progetto europeo appunto Trento Orienta. Questi erano alcuni esempi adesso lascio la parola alla mia collega dottoressa Maia Buzulecu che ci spiega e ci dà un approfondimento sulla dashboard per i dati della mobilità anche qua realizzata tramite un progetto europeo. Grazie Allora come diceva Giacomo i dati sono insomma per un cittadino comune magari qualcosa a cui non pensa tutti non si pensa tutti i giorni però sono molto importanti soprattutto i dati sulla mobilità noi permettono di capire come si muove la gente quali poi dopo politiche fare ma sono soprattutto utili per i cittadini per capire come muoversi in città quindi applicazioni viaggio a Trento piuttosto che altre applicazioni sulla mobilità. Una cosa che noi stiamo facendo grazie al progetto europeo Crowd di cui vedete il simbolino sotto e che coinvolge vari partner a livello europeo appunto noi in Italia con l'università Germania, Spagna e Svizzera, Inghilterra e via dicendo è provare a utilizzare vari tipi di dati provenienti da vari fonti che siano nostri del comune piuttosto che altri dati che adesso vi dirò per farli vedere ai cittadini in una maniera in cui leggibile insomma che questi dati si capiscano che non siano in quelle tabelle un po' diciamo appunto di difficile comprensione che una persona non andrebbe mai a cercare. In questo caso si parla di nuovo di dashboard che è quello che Giacomo chiamava cruscotto quindi proprio una panoramica di dati in questo caso appunto sulla mobilità. Tra pochissimo vi farò vedere proprio questo cruscotto come è stato fatto per il momento è ancora in corso però vogliamo appunto farvi vedere a che punto siamo. La cosa che volevo dirvi prima è i tipi di dati che vengono utilizzati quindi dai dati statici che sono i dati del comune dati aperti che significa i dati appunto ad esempio delle piste ciclabili piuttosto che i dati dei parcheggi. I dati in tempo reale che già possediamo come ad esempio quello del servizio bike sharing che è quello verde che voi vedete le bici verdi che vedete in città è un dato che noi prendiamo sulla disponibilità in tempo reale e quindi si può vedere anche in viaggio a Trento in tempo reale quanti ad esempio bici ci sono quanti spazi liberi ci sono così una persona sa un po' orientarsi nel caso in cui volesse usare questo servizio. Oppure dei parcheggi come diceva Giacomo prima noi abbiamo sensori nei parcheggi sotterranei di Trento che dicono già fuori vedete un piccolo cruscotto fuori dal parcheggio con quanti spazi liberi ci sono e quanti invece ce ne sono totali e questo dato arriva anche a noi. Poi usiamo dati da altre fonti in questo progetto siamo partner di TomTom che ha dei dati privati molto importanti che cerchiamo appunto di importare di nuovo in questa dashboard e dati di crowdsourcing che è un altro termine un po' diciamo non di facile comprensione ovvero sia dati che provengono dai sensori dei telefoni dei cittadini. È in corso un'iniziativa e adesso siamo alla prima sessione e se voi seguite la sezione smart city del sito del comune di Trento vedrete aggiornamenti su questo su come partecipare proprio la possibilità per i cittadini di utilizzare il proprio telefono e per tracciare i propri movimenti così che questi dati arrivano a noi e insomma altre varie iniziative che adesso non sto a raccontarvi che non è diciamo questo momento. L'idea è che appunto tutti questi dati vanno a finire in questa che è la dashboard. Quello che si vede alla pagina iniziale innanzitutto è la mappa di TomTom quindi dati provenienti da privati che riguarda il traffico a Trento in tempo reale quindi noi in questo momento possiamo vedere quanto sono trafficate le vie a Trento. Di fianco abbiamo cercato di integrare altre informazioni utili quindi ad esempio informazioni provenienti dalle stazioni meteorologiche e un piccolo widget si chiama con il meteo giusto per avere un attimo una panoramica di Trento. La cosa utile che crediamo sia utile che abbiamo cercato di fare e che adesso vi mostrerò sono i dati divisi per categorie quindi macchina, bici e moto. Ad esempio per quanto riguarda la sezione delle macchine la cosa diciamo che interessa di più di solito sono i parcheggi appunto quando uno arriva in macchina e dove è il parcheggio. Vediamo se me lo prende di nuovo, un po' di pazienza perché è appunto in corso quindi vediamo se passando la bicicletta... Ah eccolo, no. Allora, è un po' lento, esatto. Ok. Ok, allora qua vediamo la possibilità innanzitutto di filtrare per varie opzioni, proviamo a togliere circoscrizioni così è più chiaro. Possiamo vedere, questi sono i dati che possediamo noi su parcheggi di Trento, schiacciando vediamo ad esempio i dati in tempo reale appunto di queste strutture, quindi in questo caso parcheggio Canestrini, ci sono 300 posti e 46 disponibili. Dopodiché possiamo anche vedere ad esempio le zone a pagamento, in questo caso sono state importate ancora, non ci sono tutte le informazioni, c'è solo la denominazione della zona ma a breve ci sarà anche la tariffa per le strisce blu nella zona relativa. Dopodiché c'è una sezione di analisi storica per capire un po' la probabilità dei parcheggi a Trento e una sezione dedicata al traffico in tempo reale. Passando velocemente alle biciclette, di nuovo qui c'è l'integrazione ad esempio dei dati statici di cui vi dicevo prima, quindi delle piste ciclabili. Dopodiché c'è l'integrazione del dato in tempo reale delle bici di bike sharing, quindi con la disponibilità in questo momento in questa stazione e in terzo luogo abbiamo integrato la mappatura che è stata fatta al comune di Trento delle rastrelliere nella zona ZTL. Schiacciando sul tipo di rastrelliera viene fuori appunto un'informazione che ci dice che ci sono 12 posti che è un tipo di rastrelliera monofacciale. Anche qui per un cittadino che volesse arrivare in centro magari non sa dove mettere la bici, guardando insomma questo cruscotto riesce ad avere questa informazione. Io mi fermerei qui, è un assaggio di quello che stiamo facendo, è diciamo bello vedere come tutti questi dati molto diversi vengano messi assieme. Vi chiederei se vi può fare piacere, siccome è in corso appunto, il progetto è in corso, siamo a metà del progetto, di accedere a questo link per compilare un brevissimo questionario di tre domande, magari se ve lo segnate lo potete fare anche alla fine così lascio la possibilità ai miei colleghi di andare avanti. Oppure chiedete a noi fuori, che siamo qua in maglietta blu, di ricordarvi qual è questo piccolo link per darci veramente due o tre informazioni, è brevissimo. Apprezzeremo molto di idee, di cose da includere ulteriormente nel cruscotto e la mobilità. Grazie. Aggiungiamo una cosa a quanto ha mostrato Maya egregiamente poco fa, ovvero sia quei dati che avete visto, ad esempio la posizione delle rastrelliere in centro, sono stati mappati grazie al personale del Comune di Trento che è andato fisicamente sui posti a guardare dove sono. Queste sono state messe a disposizione. Adesso, grazie anche a questo progetto, un'altra delle cose è promuovere il fatto che questi dati possano essere raccolti anche grazie al contributo dei cittadini attivi. Infatti una delle attività anche che faremo all'interno di questo progetto è proprio incentivare anche i cittadini ad aiutarci a promuovere. Poi Alessandro spiegherà una delle attività che è stato fatto in tal senso anche per un altro progetto, ma va tutto in questa direzione. Ieri sui giornali si parlava della mappatura dei cestini a Mattarello. Ecco, anche questo, in previsione, tutti quei dati verranno messi a disposizione e questo permetterà anche di poter fornire ulteriori informazioni. In questo momento ad esempio vi faccio vedere i parcheggi e la probabilità dei parcheggi in centro. A breve, anche grazie ai fondi di un altro progetto europeo di cui si parlerà domani, che è il progetto Stardust, verranno realizzate con i contributi presi dall'Europa in questo progetto, verranno installati dei sensori di parcheggio sotto i parcheggi disabili e per il parcheggio carico-scarico. In questo modo potremo arrivare a avere l'informazione in tempo reale della disponibilità o meno del parcheggio per disabili. Quindi li mappiamo, vediamo dove sono, in posizione, poi riusciamo a fornire anche se quel parcheggio è libero o no. A questo punto, di nuovo, che informazione possiamo passare? Io sono qua, qual è il mio parcheggio per disabili o per carico-scarico più vicino? Quali sono quelli vicini? Ma non solo. Quali sono quelli liberi vicino a me? A questo punto questa informazione e nel momento che l'ho trovato anche guidami per arrivarci. Ecco, tutte queste informazioni e questi servizi messi assieme aiutano e semplificano la vita. E' un po' questo il concetto appunto di smart city. Adesso andiamo avanti. Grazie Giacomo. Io invece, scusate mi sposto, sono più comodo a parlare in piedi. Vi mostro, vi do una panoramica, diciamo, della parte della cartografia che ovviamente curiamo anche come amministrazione, come Comune di Trento. In questa semplice diapositiva ho fatto una fotografia della nostra situazione e cioè fondamentalmente noi diamo a disposizione due tipi di cartografia che sono una cartografia per uso professionale perché è completa, qui troviamo tutte le informazioni cartografiche che abbiamo a disposizione e che pubblichiamo però è anche un po' più, diciamo, difficile da utilizzare, non è immediata. Chi la utilizza deve un attimo capire e sapere metterci in mano perché ovviamente le informazioni sono tante, si possono fare ricerche e consultare diversi tipi di documentazione. C'è invece una cartografia, diciamo, più diretta, più semplice da utilizzare ed è per questo che è anche disponibile per smartphone, per esempio, per tutti i dispositivi mobili e qui abbiamo anche, se volete, sono pubblicati anche gli indirizzi e qui c'è la cartografia, le informazioni principali, quelle di più semplice e rapido utilizzo e quindi vi invito, segnatevi gli indirizzi o comunque in qualsiasi momento noi siamo nel nostro stand a disposizione per farvele vedere, per farvele provare. Un terzo punto, questo qui più in basso, che viene chiamato servizi di interoperabilità è un ulteriore tipo di pubblicazione della nostra cartografia che permette di essere integrata all'interno di altri tipi di dispositivi, di altri tipi di cartografia che permettono di costruire delle mappe, di mettere insieme anche dati cartografici che vengono da più parti, dal comune, dalla provincia, da altri enti privati, per crearsi delle mappe personalizzate e per fare per esempio degli studi approfonditi di qualche genere, però questa qui è a livello ancora più complesso. Io vi do brevemente una rapida carrellata su quali sono le principali informazioni che possiamo trovare, alle quali possiamo accedere. Allora la cartografia preso professionale è suddivisa in quattro sottogruppi chiamati generale dove troviamo tutte le informazioni su quelle diciamo più di livello generale, una cartografia invece ambientale, una cartografia dedicata all'urbanistica e nello specifico il piano regolatore generale e una cartografia dove raccogliamo le informazioni utili per quanto riguarda il piano di protezione civile per la gestione delle emergenze. Nella cartografia generale le cose più importanti sono, possiamo consultare quelle che sono le vie e i numeri civici che sono stati tutti mappati all'interno del Comune di Trento e il punto di forza è che queste vie e numeri civici che troviamo nella nostra cartografia sono effettivamente quelli ufficiali, quelli corretti, così come anche le fotoere, sono delle fotoere dettagliate, troviamo foto satellitare anche se andiamo a consultare per esempio Google Maps o Bing Maps, però le nostre fotoere essendo fatte specificamente per il nostro territorio sono molto di livello molto dettagliato, se non le avete mai viste dateci un'occhiata. Pubblichiamo anche il Catasto che è un'informazione che viene dalla provincia di Trento ma per quanto riguarda la parte del Comune lo troviamo, velocemente per l'ambiente, io qui ho solo messo alcuni spunti, si trovano informazioni sull'idrogeologia, scusate, sul sottosuolo, sull'inquinamento acustico anche che è un tema interessante al giorno d'oggi, urbanistica vi ho già detto principalmente il piano regolatore generale, ecco per quanto riguarda la protezione civile siamo impegnati anche e stiamo pubblicando anche informazioni utili per il grosso evento che ci sarà fra un mese e cioè la donata degli alpini, per cui trovate anche quelle informazioni, così come le trovate le abbiamo inserite anche nelle mappe di base della città, quelle appunto per dispositivi mobili, oltre a poter fare ricerche di un numero civico, di una via, oltre a poter visualizzare come sfondo una ortofoto piuttosto che la nostra carta turistica, piuttosto che il nostro piano regolatore, trovate anche informazioni utili sempre per quanto riguarda l'evento della donata degli alpini. e una cartografia anche dedicata al tema del funerario perché sul nostro territorio abbiamo ben 22 cimiteri e nel corso di questi ultimi anni siamo riusciti a mappare tutto quello che in termini tecnici si dicono manufatti, le tombe ed è possibile poter ricercare il proprio defunto, il proprio conoscente, oppure anche andare a individuare in mappa, a sapere in quale manufatto è sepolta quale persona. Se mi mandi avanti, poi ho finito. Ah sì scusa, questa non si vede molto bene, comunque è un esempio di quello che potete trovare per quanto riguarda le informazioni sulla donata degli alpini all'interno appunto del piano di protezione civile, alcune informazioni quali per esempio l'individuazione soprattutto nella parte del centro storico della zona rossa, della zona arancione dove saranno poste diverse limitazioni soprattutto alle persone che si vogliono spostare in quei giorni, in quelle zone e poi anche dove saranno previsti per esempio gli ospedali da campo nel caso appunto di emergenza e di problemi, i posti di intervento piuttosto che per esempio le aree camper dove poter trovare servizi di assistenza di questo tipo. Ecco basta, io siccome siamo anche un po' in ritardo, chiudo. Può darsi che lei l'avesse già detto e magari non c'ero, queste applicazioni, queste cose sono nel sito del comune? Per cui dal mio computer ci arrivo tra... Sì sì, allora come riferimento ovviamente è il sito del comune www.comune.it.it, c'è anche la sezione dedicata alla cartografia, è un'area tematica, trovate quindi poi la possibilità di accedere anche agli indirizzi che c'erano nella diapositiva prima, questa qua, pardon, sono andato avanti, ma li ho scritti qui ma li trovate da casa sia per la cartografia per smartphone e anche per la cartografia quella proprio per consultabili da PC. Prego, prego. Aggiungo che abbiamo realizzato apposta dei flyer, quindi dei volantini, li trovate qua fuori, dove c'è l'elenco proprio di tutte le app e i servizi innovativi dedicati al comune con anche l'indirizzo e il QR code eventualmente se vogliamo accederci dal telefono perché è visibile tutto anche dal telefono, con la spiegazione anche molto breve in cinque righe di cosa fanno i singoli servizi. Adesso abbiamo Alessandro Betta. Sì, io in realtà vi racconterò un po' in parte un evento che è stato fatto ieri che è un po' un primo passaggio legato sempre e finanziato da questi due progetti europei di cui uno, il progetto Los Dama, si occupa degli spazi aperti mentre il progetto Green Cycle si occupa dell'economia circolare, quindi le attività di recupero, le attività artigianali che riciclano eccetera. La domanda è perché fare una mappatura partecipata, cioè quindi perché fare la mappatura non solo da un lato ma farla partecipata insieme ai cittadini. Come diceva Giacomo prima, non si tratta solamente del comune che mette a disposizione i dati o che realizza alcune applicazioni utili per cittadini, ma dal nostro punto di vista si tratta anche di coinvolgere i cittadini nella raccolta di alcuni dati, perché? Per scambiare conoscenze, perché la conoscenza che possiamo avere noi come tecnici è una conoscenza del territorio magari diversa da quella che hanno i cittadini che quel territorio lo utilizzano, per non sprecare risorse perché raccogliere magari due volte, tre volte, quattro volte lo stesso dato da persone diverse, con servizi diversi è uno spreco di risorse, ma anche dal nostro punto di vista anche per coprogettare il territorio, perché si tratta anche per noi di un modo proattivo, non è solamente nel fare un progetto, nel fare un sopralluogo, si fa un sopralluogo, si fa partecipato, si fa insieme, i dati si raccolgono insieme, si raccolgono dati che vengono messi insieme e quindi diventano anche delle occasioni per coprogettare. Molto velocemente, ieri sempre all'interno della Smart City Week abbiamo fatto questa piccola mappatura partecipata nella zona di Trento Nord, se voi se volete i QR, qui vedete la mappa, quello che è stato mappato ieri, in circa un'ora di mappatura abbiamo mappato 40 punti, ognuno è stato fotografato, è stato registrato, che punti abbiamo mappato? Abbiamo mappato una serie di punti interessanti, per esempio abbiamo mappato il problema in alcuni casi dove ci sono delle barriere o degli attraversamenti o delle problematiche di questo tipo, oppure gli spazi vuoti, i negozi vuoti, i negozi sfitti, anche perché questo ha un utilizzo doppio, serve a noi perché, come faceva alcuni esempi Giacomo prima, non avete idea di quanto tempo si perde, magari arrivano le segnalazioni e dov'è la segnalazione? Ma sì è in via però, non so, forse al 21 però verso destra, dopo c'è un cancello, gira, bisogna mandare qualcuno all'esterno, andare a vedere, andare a fare il suo provoco, capire, con queste mappature partecipate, questa piccola applicazione qua che stiamo all'inizio, quindi la stiamo sviluppando adesso, ovviamente si riceve e noi riceviamo direttamente il punto già localizzato con la fotografia del posto, di cosa c'è, ma serve anche perché serve anche per arricchire e poi fornire appunto i dati perché c'è una conoscenza diversa al territorio, chi lo vive, chi lo percepisce, lo percepisce in maniera diversa rispetto a noi e quindi diciamo noi l'abbiamo utilizzato in questo modo, qui vedete è un'ora diciamo ogni, quindi l'aggiornamento della mappatura ogni 15 minuti, i colori diversi erano nei diversi elementi che noi abbiamo mappato però questo è cosa una decina di persone, 15 persone in verità possono fare nel giro di un'ora e noi siamo partiti dal parco di Melta, un gruppo è andato verso la zona di Garden, un gruppo è andato verso la zona dei soltri di 100 chiavi e circa in un'ora abbiamo mappato, abbiamo raccolto 40 dati e 40 punti che non c'erano, che non erano mappati delle strisce pedonali che non si sapeva che ci fossero o cose di questo tipo, quindi molto velocemente, è un progetto ancora all'inizio quindi ho lanciato la palla. Bene, grazie Alessandro, allora giusto, velocessimissimamente, allora abbiamo detto tutti che esiste il sito del comune, per la parte nostra dell'ufficio Smart City esiste un'area dedicata www.comune.trento.it slash smartcity, iscrivetevi alla nostra newsletter che ci saranno fuori, ci saranno di digitali qui fuori al tavolo oppure al gazebo, il primo gazzavo su in cima, seguiteci sui nostri social, siamo su Facebook, su Twitter e come abbiamo detto vi aspettiamo allo stand e siamo lì fino a domani, grazie a tutti e buona giornata. Grazie ai relatori, velocissimamente vi ricordo le istruzioni della sicurezza, attenzione a non lasciare zaini, borse e niente.